Ciao Davide, eterno capitano. Passa il tempo, ma il ricordo di Davide Astori resta vivo. Due sciarpe viola e una del Milan, la squadra in cui calcisticamente è cresciuto, sono appoggiate in quel piccolo spazio del cimitero di San Pellegrino Terme, a 20 km da Bergamo, dove riposa il capitano della Fiorentina, il cui cuore, ha smesso di battere a Udine nella notte del 4 marzo 2018. Una persona per bene, un ragazzo gentile, mai una parola fuori posto. Una figura in grado di unire il mondo del calcio in un unico sentimento di profonda tristezza. Tra i tifosi viola che hanno approfittato della trasferta di Brescia per rendere omaggio al capitano per sempre, al cimitero di San Pellegrino Terme, abbiamo incontrato Claudio e Antonella, una coppia di Agliana, che ha lasciato sulla tomba di Davide Astori una bomboniera del recente battesimo di un nipote. Claudio e Antonella avevano conosciuto Davide insieme alla madre Anna, il padre Renato e il fratello Marco, una famiglia che non ha mai abbandonato questo piccolo borgo ai piedi delle Dolomiti. Hanno seguito loro figlio da lontano, con la stessa discrezione del figlio a Cagliari, a Roma e infine a Firenze, dove Davide avrebbe voluto crescere la propria famiglia con Francesca e la figlia Vittoria. La tragedia poteva essere evitata se lo chiedono a San Pellegrino e se lo chiedono i giudici del Tribunale di Firenze, che ancora indagano sulla morte del numero 13. Intanto Anna, Renato e Marco sono ancora in attesa della verità.